Mercoledì mattina il Gaetano Bonolis c'è stato il rompete le righe del Teramo, i saluti del presidente Franco Iachini. Con il discorso del patron allo staff e alla prima squadra si è chiusa ufficialmente la stagione sportiva 2020-2021 dei Biancorossi, la seconda consecutiva terminata nei play-off. Ora una fase di riflessione e poi sotto per organizzare il futuro. Da ciò che è trapelato, sembra che il presidente Iachini si sia limitato a ringraziare la squadra e staff tecnico di quanto fatto nel corso del campionato, qualche rammarico e filo di amarezza è emerso per i diversi punti persi ingenuamente, contro avversari inferiori, ma non bisogna dimenticare che è stata una stagione difficile, contrassegnata dalla dura emergenza sanitaria e con la conseguenziale crisi economica. Tuttavia per il diavolo è stata una stagione soddisfacente, considerato che per il secondo anno consecutivo il diavolo è riuscito a centrare l'obiettivo dei play-off. Il presidente Iachini all'incontro con la squadra non ha parlato di programmi né ha dato qualche indicazione sulle intenzioni future. Più volte il numero uno biancorosso ha chiesto sostegno al mondo imprenditoriale senza avere alcun riscontro. Finora è andato avanti da solo, con grandi sacrifici, ma pensare di affrontare un nuovo campionato impegnativo come quello di Serie C potrebbe portare il patron a delle riflessioni. Probabilmente il presidente si prenderà un po' di tempo per decidere. E' chiaro che per ripartire occorre avere ben chiari i due ruoli fondamentali allenatore e direttore sportivo. Massimo Pace e Sandro Federico sono in scadenza. La loro intenzione sarebbe quella di rimanere per un'altra avventura e completare così il progetto iniziato due anni fa. Dopo l'eliminazione dai play-off, Pace a tutto ci ha dichiarato sono in attesa di un segnale da parte della società abruzzese. Il mio contratto scadrà il 30 giugno e non so quali sono le intenzioni della società. Resto in attesa.